Riaprire il sottopassaggio di Piazza Libertà, quale rifugio d'emergenza per i senza tetto, almeno in queste giornate di grande freddo e in assenza di soluzioni migliori. E la richiesta è inviata oggi direttamente al Sindaco di Piazza e agli Assessori Tognoli e Bavuder dai capigruppo delle opposizioni in Consiglio Comunale. L'iniziativa è di Alessandra Ricchetti dei 5 Stelle, ma in calce alla lettera ci sono anche le firme di Giovanni Barbo del PD, Riccardo La Terza di Adesso Trieste e Paolo Altin di Punto Franco. Deve essere data una risposta. Il tempo climatico è chiaramente peggiorato. Io ad agosto avevo sollecitato per un piano emergenziale del freddo, diverso dagli altri anni perché il numero delle persone che arriva qui a Trieste è notevolmente aumentato e sono in condizioni veramente alla ghiaccio. Costante il confronto con le associazioni che operano nella zona, che riportano settimanali richieste di intervento al servizio sanitario d'emergenza. Abbiamo tutti freddo, solo che noi possiamo tornare a casa. C'è qualcuno che non lo può fare e quindi la richiesta è, siccome ci sembra evidente che questa giunta non voglia dare risposta alla gestione nemmeno sanitaria di dignità di queste 200 persone che sono al silos attualmente, almeno in questa situazione di freddo apriamo un ricovero emergenziale, per esempio il sottopassaggio. Le associazioni che sono lì presenti, che offrono assistenza, si rendono disponibili addirittura a effettuare le pulizie e mantenere il sottopassaggio ferroviario in buone condizioni. Le opposizioni chiedono a sindaco e giunte di andare oltre quello che è l'obbligo di legge, ovvero la presa in carico dei minori non accompagnati. Cheppure, fa sapere l'assessore Tognoli, continuano ad arrivare anche in queste condizioni di meteo avverse. Al momento il comune ne sta accogliendo circa 350.